Dico subito una cosa, che non parlo da senatore, parlo ancora da giornalista, da provocatore e quindi non ci volevo venire. Non ci volevo venire perché i dibattiti non li sopporto più da tanto tempo, o mi pagate profumatamente oppure non vengo a perdere tempo. Perché è il testo più ribelle che c'è in circolazione, perché parla dell'equilibrio perfetto più ribelle che c'è in circolazione, perché parla dell'equilibrio perfetto tra schiavo e parassiti. I ribelli della Costituzione sono le parole che più danno fastidio al mondo del neoliberismo. Neoliberismo! Come facciamo questo? Con la cresta? Praticamente lo ammettono loro stessi che stavamo semplicemente prendendovi per il culo. Siamo noi stessi i primi attori di questa commedia dell'equivoco che gira attorno alle parole. E con questo ragazzi abbiamo smascherato anche questi altri clown qua.